Si sono affrontati a causa di un diverbio all'uscita di una scuola elementare alla periferia di Andria sino al provvidenziale intervento di una vigilessa della polizia locale. È accaduto ieri mattina in via Murge nei pressi di un edificio scolastico poco dopo le 13 ad affrontarsi due uomini di circa 40 anni che dalle parole sono passati ben presto ai fatti con l'utilizzo anche di un martelletto malepeggio, un attrezzo da lavoro generalmente usato da agricoltori. Il provvidenziale intervento della vigilessa, che ha subito anche qualche colpo durante la collutazione, ha evitato che si degenerasse in qualcosa di ben più grave. La gente in servizio all'uscita di scuola ha subito allertato i rinforzi. Alla base della discussione una banale mancata precedenza avvenuta qualche giorno prima con una delle mogli dei coinvolti. Rancore e dissidi che sono poi esplosi, probabilmente favoriti anche da vecchie ruggini familiari. Entrambi gli uomini sono stati poi condotti presso il comando della polizia locale di Andria, identificati e ora toccherà alla procura di Trani valutare come procedere dopo gli accertamenti del caso. Su uno dei due, un agricoltore, pende comunque una denuncia per porto d'armi o oggetti atti ad offendere.